64 anni, tanta è la distanza dall'ultima gara tra Catania e Spezia in terra sicula. Era la stagione 1950-51, i rossazzurri battevano i Liguri con una doppietta di randonne. Squadre che affrontavano il campionato cadetto così come adesso e che qualche mese prima, sempre al Ciba, li avevano impattato sullo 0-0. Nel computo vanno anche inserite due sfide negli anni 30 tra l'associazione fascista Calcio Catania e lo Spezia. Una vittoria per parte, 2-1 per gli Etnei e 3-0 per i Liguri nel febbraio del 37. Il resto è storia recente e non più in bianco e nero, ovvero la gara dell'andata in Liguria tra bianco-neri e rossazzurri. Era il 19 ottobre e i rimaneggiati Etnei affrontavano la squadra di Bielizza. Sannino doveva fare a meno di tantissimi elementi ai box per infortunio, con difesa e centrocampo praticamente inventati. Gli Etnei subivano i padroni di casa che al ventitresimo passavano in vantaggio col croato Brezovets. Ma il protagonista del match doveva ancora scatenarsi, quell'Andrea Catellani mosso da grande sete di rivincita contro la sua ex squadra. Un calcio di rigore procurato e trasformato ed il gol che chiudeva i conti a 5 minuti dalla fine. Nel mezzo anche un calcio di rigore parato da Cicizola a Rosina e l'espulsione di Ghiomber. Un Catania molto diverso da quello che vedremo domani al Massimino, con un elemento che nel frattempo ha cambiato casacca. Da perno dello Spezia al leader della difesa rossazzurra, Luca Ceccarelli.